Preoccupa il contagio nelle scuole della provincia di Cosenza, intere classi in quarantena fiduciaria in attesa del tampone molecolare e istituti costretti ad effettuare le sanificazioni previste. Noi abbiamo fatto un giro per capire qual è lo stato dell'arte. All'istituto comprensivo Rende 4.000 ci dicono i collaboratori che una sola classe è al momento in quarantena. Alla stancati di commenda è la dirigente a spiegarci la situazione. Ci sono due classi sospese, in una c'è una bambina positiva dovuta a un contatto di famiglia, nell'altra invece ci sono la classe in isolamento domiciliare cautelare perché c'è un contatto di un contatto. Quindi gravi casi non ce ne sono. La situazione è abbastanza tranquilla. Diciamo che nelle scuole la situazione si gestisce e purtroppo il contagio viene dall'esterno, non nell'interno della scuola. Questo sì. A Cosenza invece i più preoccupati sono i genitori. Siamo andati a Via Negroni, abbiamo trovato alcune mamme davanti ai cancelli d'ingresso. Che sentite cosa ci hanno detto? Siamo mamme preoccupate proprio perché questo virus dilaga di più tra i ragazzini e gli scolari, ecco, perché questa è la più grande preoccupazione. Non possono dire che dilaga perché sono i genitori a contagiare i figli e poi i figli contagiano a scuola, perché io la scuola non la vedo un luogo sicuro. Quattro delle classi in quarantena presso l'Istituto Comprensivo Cosenza III di Via Negroni. Una di queste ha effettuato anche i tamponi molecolari presso l'USCA e si è in attesa degli esiti. L'appello, la dirigente, lo rivolge alle famiglie e dice restiamo uniti. Abbiamo delle paure profonde, però noi che rappresentiamo le istituzioni dobbiamo reggere. Siamo allarmati, ma quell'allarmismo che deve essere autocontrollato. Siamo andati anche alla scuola di Via De Rada, cancelli chiusi e nonostante abbiamo provato più volte a suonare il campanello, nessuno ha risposto sul sito della scuola all'avviso di chiusura fino al 10 marzo per effettuare gli screening per alcune classi per sospetti casi covid di variante inglese. A Castrolibero invece è stato il primo cittadino, dopo alcuni casi sospetti, a sospendere le elezioni in presenza fino a data da destinarsi.